Il progetto Life Green for Blue ha come obiettivo la valorizzazione dei canali di bonifica, corsi d'acqua ideali per la connessione delle aree naturali del territorio attraverso una gestione che coniuga sicurezza idraulica, supporto alla biodiversità, controllo delle specie all'octone invasive e tutela del paesaggio. Mi trovo nelle campagne di Budrio, in territorio bolognese, nel cuore del comprensore della bonifica arenana. Sono in compagnia dell'agronomo Andrea Morsolin che sta curando questo progetto, un progetto che ha una grande valenza naturalistica e che ha degli obiettivi principali. Innanzitutto il vostro consorzio è capofile di un progetto Life. Che cos'è e poi quali sono gli obiettivi? Il consorzio della bonifica arenana è capofila di un progetto Life Green for Blue finanziato dall'Unione Europea attraverso il bando Life che è una fonte di finanziamento per progetti di vario tipo tra cui il nostro che appartiene alla parte natura e biodiversità, cioè è improntato proprio sulla tutela della biodiversità dell'Unione Europea. In questo caso noi siamo coordinatori insieme a una partnership che è composta da Legambiente Emilia Romagna e dall'Università di Bologna attraverso due dipartimenti, quello di Scienze e Tecnologie Agroalimentari e dalla Facoltà di Veterinaria. Il progetto ha una serie di obiettivi che vuole raggiungere che riguardano la riqualificazione ambientale dei canali. Un progetto che ha la durata di quanti anni? Il progetto dura sei anni, è partito a ottobre 2019 quindi si concluderà a settembre del 2025 e l'intero progetto ha un budget di 2 milioni e 4 finanziato al 55% dall'Unione Europea e il 45% cofinanziato dai vari partner. Interessa una superficie di quanti ettari e soprattutto quanti canali sono coinvolti in questa attività? Allora l'area target del progetto che ricomprende quella che è la chiusura di bacino del bacino idrografico del Reno, quindi anche le valli di Argenta, ha una superficie totale di oltre 40 mila ettari. I siti di intervento specifici portano a una superficie di intervento effettiva di oltre 10 mila metri quadri e all'interno di quest'area abbiamo 620 chilometri di canali gestiti dal consorzio su cui verrà fatto una serie di interventi relativi alla gestione in maniera puntuale sul 10% quindi su una sessantina di chilometri di canali. Ci sono due elementi fondamentali, due filoni di sperimentazione di questo progetto che sono importanti che riguardano la fauna selvatica ma anche l'aspetto diciamo floristico del territorio che palustra in questo caso visto che si tratta di canali. Esatto, allora gli interventi saranno svolti sui canali per quanto riguarda la vegetazione quindi sia la gestione della vegetazione presente attraverso tecniche di sfalcio differenti rispetto a quelle tradizionali che possano far convivere tranquillamente l'esigenza della sicurezza idraulica di un territorio come quello in cui siamo dove l'allontanamento delle acque è molto importante nei periodi soprattutto invernali e però anche quella che è la funzione di ecosistema che un canale può avere sul territorio quindi tutta la parte di supporto alla biodiversità e quindi oltre agli interventi tecnici sul territorio nella gestione dei canali verranno fatte anche delle reintroduzioni di specie floristiche che ormai non si trovano più lungo le sponde del reticolo idrografico del consorzio. Quindi i dettagli di questa sperimentazione in che cosa consistono? Allora tratteremo due specie aliene che si trovano molto diffuse sul territorio e che caratterizzano l'ambiente canale quindi creano anche delle problematiche di sicurezza idraulica parliamo appunto è detto della nutria del gambero rosso della Louisiana e in particolare per il gambero rosso della Louisiana cercheremo di fare un approccio integrato che possa portare una maggiore resilienza del territorio nel gestire questa popolazione che è in continuo aumento. Per esempio questo sito in cui ci troviamo adesso è un esempio di area rinaturalizzata come altre che faremo per il progetto in cui la copertura arborea permette la nidificazione degli ardeidi quindi degli aironi che creano delle garzaie e in base alle differenti specie presenti vanno ad occupare differenti zone di questo habitat. Questi sono i principali predatori che abbiamo sul territorio del gambero rosso e quindi creando delle postazioni lungo i canali di questo tipo potremo aumentare quella che è la predazione che viene fatta sul gambero. Questo paesaggio, questo canale con questa rinaturalizzazione sarà uno dei tanti punti che vengono ricreati attraverso questo progetto? Esatto, questo è uno dei siti di intervento, quello che ha già le caratteristiche corrette per quanto riguarda gli scopi che vogliamo raggiungere, ovviamente verranno fatti dei lavori anche su questo ma ne abbiamo altri otto di siti del genere che avranno questa caratteristica alla fine del progetto ma che al momento sono dei campi coltivati, dei margini di canali che verranno trasformati attraverso l'inserimento di vegetazione arborea e erbacea prodotta da un vivaio di piante acquatiche che andremo a creare all'interno delle valli di argenta che fa sempre parte del progetto quindi abbiamo varie azioni che si vanno a unire e di intrecciare per raggiungere un unico scopo. Attraverso la rinaturalizzazione quindi andremo a mettere delle piante non solo sulle sponde ma anche all'interno del canale per creare ecosistemi che possano aiutare la fauna locale e supportare la gestione delle alloctone. C'è una componente tecnica e agronomica molto importante e su questo avete il supporto dell'Università di Bologna e la Facoltà di Agraria? Esatto, sì, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari seguiamo quella che è la parte floristica quindi abbiamo già fatto vari transetti di identificazione della flora lungo i canali di intervento per notare che non c'è praticamente molta variabilità delle specie acquatiche mentre ci sono molte specie infestanti o comunque adatte a situazioni di forte disturbo come le sponde dei canali che vengono costantemente sfalciate. Sempre grazie alla Facoltà di Agraria facciamo anche un'analisi dei suoli, del sedimento, dei canali e della qualità delle acque perché tutta questa vegetazione ha anche lo scopo di fare fitodepurazione delle acque e quindi rimuovere molti degli inquinanti che poi causano problemi nelle valli di Argenta per esempio o poi a valle al mare con le mucillagini. Grande valenza ambientale quindi del consorzio, di questo consorzio e quindi della sua rete di canali, un altro aspetto che viene affrontato in questo progetto è il contenimento delle nutri e me ne parliamo spesso, ne abbiamo parlato anche spesso nel corso della nostra trasmissione, nutri che sono invasive, che compromettono le originature e creano situazioni di pericolosità. Su questo diciamo tema che cosa sta facendo e qual è il progetto, cosa prevede il progetto? Allora il progetto prevede intanto una mappatura della presenza della nutria che abbiamo svolto sia con rilievi a terra che attraverso ortofoto da drone con il conteggio di quelle che sono le tracce che gli animali lasciano e grazie a questo abbiamo potuto constatare con dei numeri e non soltanto così a sentimento la presenza costante e anche spesso molto numerosa della nutria in determinati siti di intervento del nostro progetto. Su queste aree verranno applicate quelle che sono le tecniche di contenimento previste dal piano regionale e provinciale di gestione della nutria ma andremo anche ad applicare un elemento nuovo e innovativo che è una sperimentazione di un farmaco che serve per la sterilizzazione dei maschi di nutria così che si possa avere un contenimento delle nascite senza bisogno di fare opere di abbattimento. I numerosi chilometri di canale della consorzio della bonifica renana devono essere comunque sempre mantenuti in perfetta efficienza quindi lo sfalcio è una delle tante attività. Sono con Alessandra Furlani agronoma dell'ufficio comunicazione della renana. Come viene gestito questo reticolo che è molto diciamo consistente quindi impegna anche in termini di sforzo di lavoro delle maestranze per cercare di tenerlo pulito e soprattutto anche per creare le condizioni di lavoro per questi canali. Nel comprensorio di pianura la renana gestisce un reticolo di circa 2000 chilometri di canali artificiali realizzati nel tempo di cui almeno 1600 hanno la doppia funzione cioè di scolo per le acque in esubero d'inverno e per l'irrigazione d'estate. La manutenzione ordinaria è una delle attività principali delle maestranze consortili. Noi passiamo anche due volte sul canale per diciamo le operazioni di sfalcio tradizionale ma anche quelle di risezionamento o di ripresa frane. Pensiamo a quest'anno che sono stati degli episodi alluvionali che hanno messo a dura prova il reticolo. Ecco in questa attività ordinaria che per noi è fatta in economia richiede circa 10.000 ore di lavoro l'anno e vede impegnati escavatori, mezzi, personale. Si innesta questa sperimentazione per una diciamo gestione che invece abbia caratteristiche di sostenibilità in luoghi, questi delle aree pilota, che devono avere fra loro una rete come di connessione green che li renda compatibili con i canali sottoposti a vincolo SIC e ZPS, cioè quelli che rientrano dentro la rete Natura 2000. Ecco il progetto LIFE di cui oggi parliamo è proprio una sperimentazione alternativa alle modalità gestionali tradizionali del reticolo inerbito delle nostre pianure. Grazie. Grazie.